La vita continua. E' un punto di sangue incrostato. Ve lo dico, andare incontro ad una malattia come la mia ti mette un segno meno nella mente. E' come essere punti da 200 api e il dolore sulla pelle non ti fa più sentire nemmeno la brezza che di notte culla le stelle. La prima cosa a cui penso sono i sogni che disegno mentre sono sveglia. Sono importanti per me come lo sono i doppi legami per un alchene che dell'energia non vuol superare la soglia. Io sono ancora qua a dipingere la mia felicità con un pennello fatto di paure e speranze.